I vincitori dei Tau Awards 2021, Cristiano Burani, Alessandro Enriquez, Gianluca Capannolo e Marco Bologna. Poi il premio alla carriera andrà a Piero Piazzi, altro premio alla carriera al fotografo Antonio Guccione, premio Excellence per il giornalismo, invece quest'anno andrà a Simone Marchetti, per il design Piero Lissoni, il Tau Award Donna We Are With You andrà a Yvonne Shaw e poi abbiamo per il turismo sostenibile Ludovica Casellati e per la musica il Tau Music Award, quest'anno la nostra commissione lo ha assegnato alla rappresentante di lista, gruppo di grande successo, special guest della serata di gala, la top model Nadege.